allora buongiorno a tutti amici cari buongiorno siamo in campagna col buon tesla e volevamo condividere con voi un breve video soprattutto su un argomento che ci vede un po vicini e che ci ha portato poi anche a fare un incontro recentemente in una scuola con dei ragazzi una scuola superiore con i ragazzi sicuramente ma soprattutto con un certo tipo di ragazzi allora io intanto volevo dire due cose anche se diciamo nei video precedenti l'ho detto lavoro da ricercatore all'enea lo sapete e in questo lavoro una delle attività che svolgo quella principale è un recupero di sostanze di valore da scarti dell'industria in particolar modo agroalimentare cioè in realtà una parte del mio lavoro è quella di provare a dare valore a delle cose che apparentemente sembrano non averla e perché questa cosa si collega con quello che abbiamo fatto di recente con tesla perché la storia la scuola che abbiamo visitato non era una scuola come tutte le altre cioè era una scuola particolare vero sì ci hanno presentato questi ragazzi come problematici difficoltosi e non interessati a nulla così ci hanno detto appena siamo arrivati noi avremmo dovuto parlare a loro di un di un tema che avrebbero dovuto svolgere avevano una traccia e noi eravamo lì per dare qualche consiglio semplicemente a questi ragazzi infatti diciamo questo aspetto mi ha fatto riflettere su una cosa mi ha fatto pensare che come abbiamo per esempio degli scarti dall'industria che fa l'olio d'oliva o che fa il formaggio ci sono dei rifiuti degli scarti adesso allo stesso modo senza accorgercene noi prendiamo una parte dei nostri giovani e diciamo loro che non sono abbastanza all'altezza non sono buoni per la scuola vera e vengono messi in una scuola dove devono recuperare dove devono e dove comunque di fatto pur facendo un lavoro nobile perché gli insegnanti di queste scuole sono molto forti li ringraziamo anche per l'opportunità che ci hanno dato giorni fa però di fatto stiamo dicendo a questi ragazzi che sono un sottoprodotto e che sono lì perché non sono abbastanza buoni e di valore per per la scuola normale vero che detto questo volevamo appunto ci è venuto in mente di offrire di fare con voi un piccolo confronto c'è anche in modo un po diverso proprio perché su questo canale siate curiosi l'invito è a guardare un po con la lente di ingrandimento delle cose che sembrano non essere così importanti no ed è un po quello che io e tesla ci siamo trovati a fare perché quando ci siamo seduti davanti a stefanciulli tutto abbiamo avuto tranne l'impressione che non fossero di valore vero è incredibile come erano capaci di vedere anche il loro delle dinamiche che io e lui ci siamo guardati a un certo punto ma noi che dobbiamo dirgli a questi ragazzi una capacità introspettiva incredibile io questa cosa lavoro a scuola come operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione quindi lavoro con i ragazzi disabili e però diciamo frequento classi e medie insomma con tutti i ragazzi lavoro e quindi questa cosa la vendo in continuazione cioè proprio queste nuove generazioni stanno un passo avanti lo diciamo sempre questa cosa con jack e l'abbiamo l'abbiamo notato ecco veramente vorrei raccontare una piccola cosa che mi ha fatto tanto sorridere però per farvi capire abbiamo fatto vedere due due quadri di picasso durante questa questo incontro che abbiamo tenuto il primo era picasso i primi tempi quindi magari possiamo poi in questo video che sarebbe proprio due quadri esatto magari li mettiamo si rimettiamo facciamo la dissolvenza facciamo esatto dopo nell'after prodotto esatto primo quadro di picasso primi tempi tecnicamente bravissimo e quindi si vedono proprio i dettagli sembrano fotografie picasso che tutti conosciamo abbiamo in particolare fatto vedere mademoiselle d'avignon e invece è il picasso appunto di un valore inestimabile è il picasso appunto che tutti che tutti sappiamo e a parte la battuta del ragazzo che mi ha fatto morire dice qual è la differenza tra questi due uno ha detto beh picasso prima e dopo la droga la siamo scoppiati a ridere bellissima e e poi mi è venuto da fare in quel caso un esempio calcistico quindi facendo come questi ragazzi erano appassionati di calcio soprattutto due di loro abbiamo fatto l'esempio del del primo quadro raffrontandolo con un giocatore famosissimo il secondo ad un altro magari meno tecnico ma più creativo in quel momento uno dei ragazzi uno di questi appassionati di calcio si è alzato in piedi ha detto ho capito cosa intendi ha avuto un vero e proprio click e questa cosa è stata veramente bellissima ci ha dato una soddisfazione immensa diciamo se è stato bravo anche te a proporgli quell'esempio perché io l'ho trovato molto efficace anche se non sono un esperto di calcio però a volte trovare come posso dire è proprio uno strumento anche un esempio un'immagine che aiuta le persone aiuta soprattutto i ragazzi ad agganciare quello che si vuole dire è veramente un grande strumento proprio per estrarre o meglio per portare alla luce quel valore io non voglio neanche dire nascosto ma semplicemente quel valore che noi non riusciamo non sappiamo vedere perché siamo abituati a guardarlo solo sotto una certa forma e questo ripeto da da ricercatore l'ho visto succedere molte volte ho visto molte volte delle cose che si buttano e che sono un problema ragazzi veramente cioè faccio un esempio pratico ma poi mi piacerebbe anche coinvolgere un esperto su questo abbiamo un ospite abbiamo un adesso lo chiamiamo anche a fare diciamo dare il suo contributo però mi è capitato di vedere proprio che una cosa che l'industria butta via e che crea un problema all'ambiente se presa trattata con lo strumento giusto guardandolo diciamo il la sostanza che possiamo estrarne con attenzione quella quella quel rifiuto diventa più di valore della materia prima da cui l'abbiamo estratto e alla fine non è più facile capire cosa il rifiuto e cosa è la sostanza di valore è incredibile quanto vale di più questo per dei fanciulli dei ragazzi che trovandosi in un contesto sbagliato non sbagliato perdonatemi la parola ma in un contesto dove non c'è stata quella attenzione a vedere il valore in loro perché essendo questi due ragazzi in particolar modo appassionati di calcio il calcio era come possiamo chiamarlo era il solvente entro cui si scioglievano le loro qualità e trovo per noi è stato tenete presente io questo lo dico perché quando ci ti trovi di fronte a qualcuno che fa un clic tu pure fa un clic mamma mia sì quando ti trovi di fronte a qualcuno che profondamente comprende in maniera semplice come fai tu a non fare clic insieme a lui vero esatto esatto perché poi non sei stato tu a dirgli qualcosa qualcosa è passato attraverso te quindi il clic lo fate entrambi esatto esatto e poi jack ti posso dire una cosa io dico questa parola mi trovo meglio con gli scarti assolutamente sì per fare l'esempio che ha fatto jack no questi ragazzi erano considerati sono considerati tali dalla società no ragazzi che valgono poco eppure se io avessi avuto davanti in quel contesto ragazzi bravi con tutti i dieci in pagella avrei avuto grossa difficoltà non ci sarebbe stato forse quello scambio che abbiamo avuto con loro esatto esatto anche perché tu poi a quel punto inconsciamente quando ti trovi di fronte a gente che il mondo ha definito essere la crema l'elite anche tu sei meno spontaneo perché devi essere anche tu alla loro altezza c'è pure un pregiudizio da parte nostra magari da questo punto di vista e questa cosa vale per tutto perché di fatto se uno la generalizza voi sapete che mi sto avvicinando all'entopede alla matematica e alcune tesla ride perché ci ha provato anche lui sono arrivato a lanciare i libri contro il televisore di matematica di analisi io ancora no perché evidentemente non sto studiando abbastanza ma detto questo in matematica e in fisica in generale alcune cose diciamo valgono prima in un caso specifico poi si generalizzano alcuni teoremi no alcune teorie e qui vale lo stesso quindi quando tu ti rendi conto che una cosa che stai buttando o che consideri di poco valore in realtà ne nasconde uno enorme poi dov'è che non vale cominci veramente a porti delle domande profonde su tutto quello che ti circonda ma sta roba che butto ma sta cosa che io dico che non vale niente questa cosa che cerco di evitare potrebbe essere una situazione al lavoro una condizione di vita interiore interiore una persona che ti mette in difficoltà no e tu dici ma io quella l'ho sempre evitata ma non avessi fatto una cazzata scusate se uso francese eh capito per noi almeno per me è una continua lezione una continua evidenza e al punto che oggi abbiamo proprio deciso provato a condividere questo nuovo siate curiosi perché in una forma insomma una veste un po' diversa una veste che però mi piace molto che sta piacendo tantissimo un po' perché siamo al sole in un posto bellissimo bellissimo è un campo qui vicino casa nostra adesso facciamo un attimo una panoramica ecco lo vedete tra l'altro è il posto dove ho girato l'ultimo siate curiosi proprio sulla matematica sui pitagorici siamo tornati qua ecco e a questo punto direi chiamerei l'ospite chiamerei l'ospite l'ospite del posto una breve intervista ok bene vai allora come promesso siamo con un ospite illustre è mio papà si chiama massimo e come come lui diciamo adesso io lavoro nello stesso ente di ricerca e un po mi trovo a fare anche il lavoro che ha fatto lui per tanto tempo però lui l'ha fatto molto prima e per tanti tanti anni e quindi io volevo fare una domanda sulla luce di quello che ci siamo detti perché penso che la sua testimonianza sia preziosa proprio per comprendere questo meccanismo di cui parlavamo cioè quante volte papà ti è capitato nella vita di vedere che una cosa che si buttava in realtà era piena di valore ma non è un'eccezione è una regola è una regola allora quasi sempre mi sono trovato di fronte a rifiuti industriali scarti agronomici che venivano buttati via e quindi questo mi sorprendeva allora mi sorprende ancora di più oggi perché il consumismo ci ha abituato a non considerare tutto ciò che ritorna dai processi industriali ma anche dai nostri cicli biologici e poi la stupidità dell'uomo ha fatto il resto cioè più le sostanze hanno le sostanze che si buttano hanno valori aggiunti principi attivi proprietà curative e più vengono buttate via e considerate praticamente un carico per l'ambiente ecco perché poi la cosa che diciamo abbiamo detto pure prima scusa se ti interrompo però è anche il fatto che una volta che tu una cosa decidi che non ha valore e poi comunque non è che sparisce la devi mettere da qualche parte la devi la devi come si dice gestire una parola che a me non piace proprio però in realtà quando tu una cosa hai deciso che non ha nessun valore che è un rifiuto proprio rifiuto poi la parola stessa la respingi cioè dici questo non vale nel mondo in cui ci troviamo a vivere poi deve diventare deve essere messa in un posto deve essere magari smaltita eccetera eccetera come è successo a quei ragazzi a scuola perché massimo tu non lo sai siamo andati a fare un incontro in una scuola e ci sono dei ragazzi ci sono stati presentati ragazzi molto a dire degli insegnanti difficili no quindi considerati un po' dalla società degli degli scarti oseremmo dire e quindi allora così alla luce di quello che ci stiamo dicendo è così per le persone è così per aspetti di noi noi secondo me ci troviamo a vivere in un momento storico in cui adesso gli scarti si parla tanto di recupero di riciclo della differenziata l'economia circolare adesso sono cose che trovate un po dappertutto però al tempo stesso cominciamo anche a trovare tanti nuovi modi per classificare anche le persone e dire che sono un problema o che hanno avendo loro un problema diventano un problema anche per gli altri e semplicemente c'è l'opportunità di vedere che in realtà si tratta proprio di estrarre anche da quelle persone il valore che in tutti c'è quindi c'è anche come lo troviamo nei rifiuti lo troviamo pure nei rifiuti industriali dico anche nelle persone sta a noi riconoscerlo esatto allora prima tesla raccontava una cosa che abbiamo fatto nell'incontro e lui ha fatto vedere due quadri di picasso dovete sapere che papà oltre a fare ricercatore è anche un artista e a questo proposito scusate le dita sul video qui ci sono opere fatte da lui anche tutto quello che vedete qui intorno sebbene ci sia un po di casino ma a questo punto casino pure a valore cosa non lo ha cosa non lo ha perché questo ce la stiamo dicendo un po' questa cosa è pericolosissima è pericolosissima perché alla fine tutto c'ha valore tutto c'ha valore però diciamo per rego questa cosa è pericolosissima ragazzi cioè un problema tutto ha valore tutto tutto siamo sicuri esatto tutto tutto ma tutto tutto c'è la storia io studio storia all'università no tutto quello che è avvenuto nella storia ha valore massimo tutto anche le cose che vorremmo eliminare dalla nostra memoria il valore comprende cose positive anche negative il valore c'è un'accezione più ampia ma io volevo ritornare su sugli aspetti dell'ambiente su quelli umani non sono molto preparato vabbè ci siamo noi per cui se no se no facevi tutto te se no siete curiosi tu devi parlare sì infatti ma no un esempio un esempio che mi fa sempre ridere quando con jack andiamo giù a presto ma fare delle ricerche che ogni tanto facciamo scusa se faccio un inciso allora ripeto io sono ho avuto la fortuna e anche l'onere fatemelo dire di proseguire un po il lavoro paterno e devo dire non lo faccio con la stessa espertise ho altre qualità però diciamo lui l'ho fatto per tanti anni e quindi trovandomi adesso un po al posto suo ogni tanto ci facciamo delle missioni fuori insieme andiamo in questi due posti e stiamo un po insieme a lavorare così vai diciamo andiamo in questi posti dove triunfa la mozzarella di bufara e quando torniamo a casa ci portiamo sempre un po di di mozzarella che sono buonissime tanto ma tanto buono ma c'è un'osservazione che faccio sempre a proposito di rifiuti quando uno compra una mozzarella gli regalano un chilo di mozzarella e gli regalano una ricottina di bufala questa è una cosa che a me come diciamo sensibile agli aspetti ambientali mi fa ridere cioè dal punto di vista nutrizionale nutraceutico la ricotta vale molto di più della mozzarella e quindi dovrebbero farci pagare la ricotta e regalarci la mozzarella bellissimo grazie ma questo non succede mai anzi quelle poche volte che l'ho detto ho creato ilarità e addirittura mi hanno preso in giro questo per dimostrarvi che i contenuti che noi chiamiamo salutistici sono sono conosciuti da pochi in italia il siero del latte è considerato un rifiuto da sempre scusate il siero del latte è quello che rimane del latte quando si è fatto il formaggio diciamo il siero del latte trascina la ricotta perché la ricotta si fa la ricotta si fa dal siero si fa riscaldando il siero bene il siero di latte da sempre nel nostro paese è considerato un rifiuto invece è una materia prima che ha più valore biologico del latte stesso ma viene buttato via una cosa che è interessante dire almeno di quella mia cosa non vi fate che è questa cosa mentre parlo io fanno le cose dicevo una delle cose che abbiamo visto succedere che probabilmente succede sempre quando noi decidiamo che una cosa non ha valore è che quando lo dice qualcuno mi dice ma sei sicuro che sta roba che si butta molte volte che non è diciamo spesso ti dicono ma si è sempre buttata è sempre stata buttata è sempre stato così è sempre stato fatto così è sempre stato fatto così facciamo un esempio ci sono delle regioni d'italia dove le olive si raccolgono da per terra quando un'oliva cade a terra è ormai andata è vecchia è rovinata e tu gli dici ma perché le olive stanno sugli alberi raccogliete le lì e loro dicono ma qui abbiamo sempre fatto così ed è una cosa che non c'è come diciamo punto della generalizzazione non c'è un ambito in cui non succede quindi se un ragazzo se una persona crea un problema quel ragazzo è da correggere quando va bene oppure da archiviare quella persona ad archiviare perché a noi ci hanno insegnato che una persona di valore è fatta così 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 e cosa siamo sul filone da correggere da quello che vedo un po che è meglio nell'ambito è sicuramente meglio sì però siamo ancora nella fase da correggere no non c'è una vera accettazione no no assolutamente perché non c'è ci sono un sacco di cose che vengono considerate autentiche antiche appartenevano ai nostri genitori faceva parte della storia di famiglia ma molte di queste erano stupidaggini sbagliate bravissimo perché si dice che prima era sempre meglio ma sta storia che prima era sempre meglio non è vero sono secoli che si dice che prima era sempre meglio entriamo nel filone della generazione dei giovani noi siamo tutti boomer qua diciamo tutti boomer però ci siamo resi conto da boomer che dire che sempre che prima era meglio è un'illusione poi comunque ci sono delle cose che la scienza poi ha dimostrato come valori oggettivi e che 50 anni fa non si sapevano per esempio restando sul tema delle olive mio nonno raccoglieva le olive poi le lasciava stare in cantina ad ammuffirsi perché diceva che la resa in olio era superiore era una stupidaggini in realtà evaporava l'acqua e quindi il peso d'olio rispetto al peso delle olive era un po più alto ma nel frattempo le olive si erano degradate si erano state attaccate da dagli enzimi che le devono demolire quindi è tutto così un sacco di stupidaggini che venivano venivano fatte poi venivano fatte pure delle cose che loro i nostri nonni così non sia vi facevano senza sapere perché esatto senza sapere perché per esempio mia nonna mi preparava sempre prima andava a dormire una bella tazza di latte riscaldato stava sulla stufa a macerare e alla fine mi preparava la tazza di latte e andava a dormire e dormivo tranquillo in realtà e loro lo facevano ma non sapevano perché poi abbiamo visto e abbiamo scoperto che durante la fase di riscaldamento sì il latte subisce dei delle trasformazioni per cui si formano delle sostanze che sono opioidi che fanno star bene e che si chiamano dei peptidi bioattivi cioè pezzi di proteine che fanno star bene e tolgono anche dolore o sensazioni di questo tipo ecco quindi la funzione opioide e poi tante altre funzioni derivano da questo latte che è stato trattato martellato lasciato lì quindi la nonna ci faceva sto latte non sapeva perché però lì dentro ci sono c'erano e ci sono dei peptidi bioattivi che hanno un effetto positivo sul 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 fisico sulla fisiologia anche in termini di difesa immunitaria e tante altre proprietà i peptidi bioattivi sono un tema importante che è legato anche al discorso del siero perché parlavo prima del siero che vale più del latte ma questo ancora l'umanità non l'ha imparato la gente non l'ha imparato non la siamo a tante altre cose ma tante cose non l'ha imparato e quindi diciamo il siero c'è le siero proteine che sono delle molecole meravigliose sono praticamente le siero proteine potrebbero sostituire la farmacia evitando tutte le stupidaggine e i prodotti del big della big farm che ci fanno morire disclaimer non abbiamo niente contro le farmacie se no dopo non ce lo fanno dopo ci cazzano comunque dicevo il siero del latte ci dissociamo come si fa nei video ci dissociamo ci dissociamo no comunque è molto bella questa cosa che dici tutto tutto quello che ho detto adesso ma io voglio ancora ritornare sui aspetti ambientali su questa moda che c'è adesso che si deve riciclare che è diventata una moda più da manifestare esteriormente che da praticare realmente nel nel quotidiano a questo punto anche le mode potrebbero avere un valore visto che diciamo che nulla è da buttare la moda ha sempre un valore positivo e negativo ma un valore quindi perché c'è dietro l'ingegno no ma 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 la moda intesa come tendenza non la moda del vestito intesa come tendenza c'è sempre un valore rispecchia quantomeno il parere del dei più della gente dei mass media ma io volevo fare una considerazione che non fa quasi mai nessuno a proposito dell'ambiente e cioè la prima legge sull'ambiente fatta in italia e del 1976 la famosa legge merli prima di allora si poteva buttare tutto e di più in qualsiasi sito nel mare sulla terra nei fiumi era tutto con concesso non c'era è chiaro che era meno era meno un problema non c'era limite allo smaltimento anzi alcuni smaltimenti contro i quali mi sono ostinatamente contrapposto poi ne ne farò uno ne farò un esempio in ogni caso tutti potevano smerdare perché questo è il termine scientifico mi permetto di dire il sanscrito pure si tra virgolette però tutti erano autorizzati a scaricare buttare e questo questo anche in europa e questo che cosa ha comportato ha comportato il degrado del territorio i nostri terreni soprattutto lì nella pianura padana sono ampiamente desertificati ci sono zone di desertificazione dove non cresce più nulla contaminati da metalli pesanti da pesticidi l'ira di dio potrei continuare su questa traccia per alcune ore ma poi mi però mi rendo conto diciamo me inserisco perché comunque per tornare al discorso prima del prima era meglio queste cose noi tendiamo a dimenticarle cioè una certa coscienza la stessa coscienza che ci porta oggi a dire che magari dei ragazzi che sembrano avere delle difficoltà possono essere tutt'altro che difficoltà potrebbero essere invece avvantaggiati domani per tutta una serie di capacità che non sono state portate alla luce allo stesso modo dobbiamo vedere che la coscienza si è evoluta al punto che oggi ci rendiamo conto che quelle pratiche erano follia e il nostro ambiente ne beneficia quindi nel percorso che ci vogliamo ci proponiamo anche diciamo quello che volevamo condividere è proprio questo anche l'obiettivo attenzione a credere che quello che è accaduto in passato sia il deposito della saggezza non è così detto una cosa molto bella prima massimo il fatto che noi a volte tendiamo a fare delle cose senza sapere perché quindi ritualizziamo il tutto adesso alcune cose sono dei riti ma non ricordo anche mi viene in mente proprio delle vere e proprie funzioni religiose no si avevano veramente un senso pratico sicuramente all'inizio ce l'avevano i tibetani ci raccontano di questo eccetera quindi c'era un senso pratico che oggi sono diventati dei riti sterili e questo vale un pochino in tutto per collegarmi a quanto ha detto prima massimo non sappiamo perché facciamo certe cose solo perché prima era meglio esatto anche se noi non condividiamo questa cosa magari voi siete prima di dire io non condivido che prima era meglio però guardate attentamente perché magari magari sotto sotto lo pensate bene io volevo aggiungere ancora una cosa questo ragionamento e cioè il fatto che noi oggi giudichiamo sulla base di valutazioni scientifiche volte dimostrate altre volte supposte però in ogni caso quasi sempre ci appoggiamo a delle evidenze scientifiche che sono notevolmente superiori a quelle di 50 anni fa e questo è un dato positivo ma ci sono anche cose che contraddicono questo concetto e cioè per esempio la pubblicità la pubblicità il 90 per cento delle volte si basa non su questioni oggettive tecnico scientifiche ma su questioni di carattere umorale di carattere così alleva anche sulla paura della paura deve impressionare apparire e quindi noi attraverso la pubblicità ci dobbiamo sorbire una serie di informazioni sbagliate scorrette forvianti e questo questo è molto grave perché è arrivato anche un nostro collega vieni franco stiamo a fare un video vieni giù dove sta il valore qua 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 no no io non me voglio comunque la vera domanda ma con tutto quello che ci racconti possiamo starci in pace o ci dobbiamo per forza lottare contro contro sempre contro ci dicono grande franco ma guarda d'intorno senti diciamo lo spazio dell'ospite è finito è finito volevo ringraziare che io l'ho raccontato stiamo raccontando abbiamo seguito un video per un canale lui è franco un altro collega dell'enea carissimo che adesso è il pezzo ex dell'enea ma quindi c'è una voce più libera in un altro reel sicuramente ti mettiamo in mezzo franco in realtà pensavo di invitarli ma la domanda qual era la domanda era a papà quindi diciamo pericolosissima se gli era capitato mai nella sua carriera di trovare qualcosa che le persone buttavano che poteva essere valorizzato quasi tutto bene la pasta ragazzi loro oggi si fanno un gran pranzo qui purtroppo io purtroppo devo tornare quindi un abbraccio a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti senti ma tu fio è grande si è grande quanti anni c'è amici cari ci auguriamo che questo video vi sia piaciuto siamo quasi sicuri che vi sia piaciuto ma si addirittura tesla non era manco d'accordo che facessimo una clip finale per me si poteva aiutare benissimo lì io lo sa che sono un po boomer e quindi mi serve puntualizzare le cose abbia pazienza e ci andava insomma di di salutarvi almeno a me mandava salutarvi per bene quindi vi saluto e vi mando un enorme abbraccio vi risaludiamo vi risaludiamo ciao ciao a tutti grazie di cuore ciao a tutti grazie di cuore grazie a tutti grazie di cuore grazie di cuore